Quando parliamo di Crotone, in particolar modo della marineria di Crotone, dobbiamo parlare anche dell'Eni, dobbiamo parlare delle royalties, dobbiamo parlare di una situazione che non si è mai sistemata. Ma siamo anche in queste settimane, abbiamo avuto delle interlocuzioni con il presidente della provincia di Crotone, abbiamo notato una sensibilità sulla problematica che deve trovare una soluzione definitiva. Noi ci aspettiamo che nel nuovo accordo di programma, che è già scaduto, vengano inseriti nuovamente i pescatori, perché sono loro al centro di un diritto che è stato disconosciuto e su cui deve essere necessariamente di nuovo riconosciuto, perché sono i pescatori ad avere il danno maggiore perché non possono uscire a pescare in alcune aree. Indipendentemente da quanto l'Eni estrae, per noi il danno è sempre lo stesso, quindi nel nuovo accordo di programma ci aspettiamo che le istituzioni preposte possano far rientrare tra i vari attori coloro che in qualche modo non solo lavorano in mare ma penso siano i palladini della difesa del mare e quindi su questo il sindacato continua a manifestare le preoccupazioni, i disagi e anche le tante divisioni che ci sono rispetto a determinate idee sulle questioni. Noi invece siamo convinti che i pescatori debbano avere questo contributo per il mancato pescato e lo devono avere nel tempo, non c'è più tempo da aspettare. È un diritto che deve essere riconosciuto ed essere riconosciuto nell'immediato. Se davvero si vuole non solo difendere questo comparto ma rilanciarlo. Come vedete questa ulteriore crisi che è arrivata con il caro gasolio sta mettendo a dura prova sta mettendo in ginocchio l'intero comparto che già vantava diverse e numerose criticità causate dalle normative europee e anche da una mancata strategia che questo comparto deve avere su cui bisogna necessariamente investire per permettere un ricambio generazionale che per noi è fondamentale per fare in modo di tutelare le nostre specificità ittiche ma fare in modo anche di avere un ricambio tradizionale quindi far avvicinare i giovani a questo comparto che poi la pesca crea un indotto importante nelle comunità costiere ed è su questo che noi vogliamo fare la nostra parte per cercare di garantire diritti e di difendere un settore che per noi è di straordinaria importanza. Oltre il danno alla beffa? Ma sì, in questi mesi oltre il danno alla beffa. Questa di Crotone è una marineria importante che merita rispetto e dignità e su cui il sindacato è da mesi, da anni a fianco di questi pescatori vuole cercare di rappresentarli al meglio chiamando le istituzioni alla responsabilità e sapendo che siamo tutti sulla stessa barca o si vince insieme o si perde tutti e soprattutto perdere posti lavoro in un'area dove Crotone rappresenta una delle province più povere d'Italia penso sia davvero un male che non ci possiamo permettere ma dobbiamo invece cercare di invertire la rotta quindi stando a fianco dei pescatori lo facciamo con onore cercando di dare loro la vicinanza, il sostegno e cercando di rappresentare i loro interessi ma soprattutto cercare di risolvere questa questione che ci auguriamo e auspichiamo posso trovare una soluzione definitiva nell'immediato